Turismo in crescita dell'11% in Molise, è forte di questo dato in controtendenza a livello nazionale che la regione oggi ha ospitato a Campobasso, la tappa italiana della giornata mondiale del settore. Nel capoluogo sono arrivati esperti in materia, rappresentanti di governo e istituzioni e operatori del comparto da tutta Italia. Il turismo è un settore strategico per lo sviluppo del nostro territorio, ha detto il presidente della regione, Michele Iorio. Il Molise è in vetta alle classifiche quest'anno per un incremento delle presenze in agosto di circa l'11% che a livello nazionale ha fatto clamore, essendo dappertutto in diminuzione percentuale. Quindi significa che il Molise può essere davvero sulla strada giusta per individuare in questo settore un momento di crescita. Lo diciamo da tanti anni, però io credo che sia arrivato il momento di crederci un tantino di più. Alla manifestazione ha aderito anche l'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana. Sappiamo benissimo che in questo territorio ci sono alcuni elementi che possono convergere, intrecciarsi tra di loro e diventare progetto anche di natura sociale e culturale. Penso all'ambiente e quindi alla sostenibilità della natura in questo luogo, che non è violentata, che non è stuprata, che è valorizzata per quello che esprime e per quello che è, al turismo appunto culturale e a quello religioso che è una rete, è proprio incredibile, una ragnatela di presenze, di luoghi, di esperienze, di tradizioni. Il turismo è un settore strettamente legato all'etica. Il turismo è una delle più rilevanti industrie o comunque realtà economiche al mondo, però il turismo deve anche essere realizzato, proposto, eccetera, perché duri nel tempo. Quindi deve essere attento alla sostenibilità e ultimamente è emerso con chiarezza che anche problemi di solidarietà, di equa ripartizione, di rispetto delle culture locali, eccetera, ci chiamano a promuovere eticità nel turismo.